La collezione egizia dell'Accademia dei Concordi a Rovigo è sicuramente una delle più importanti di tutto il territorio del Veneto, certamente la più consistente anche rispetto a collezioni ben più note come quelle di Padova o di Verona. La motivazione di questa mostra è stata la presa di coscienza che era necessario provvedere con urgenza al restauro dei reperti mummificati e la volontà di dare un contesto alle mummie cercando di dare qualche informazione che riguardi la collezione che è nata intorno alla figura di Giuseppe Valsè Pantellini, ma soprattutto intorno all'idea della morte, quindi il corredo funerario di cui in queste due sale sono esposti alcuni reperti, alcuni anche di grande importanza qualitativa scientifica, proprio per cercare di restituire ai due personaggi mummificati che abbiamo nel laboratorio qui allestito un contesto vitale, un contesto di vita quotidiana. Grazie. 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 Grazie.